La partnership con il Mia Photo Fair consente ai nostri studenti di lavorare presso la fiera di fotografia, di seguirla in tutte le fasi, nella fase di gestazione, nella fase di rapporto con le gallerie, di allestimento degli stand, di rapporto con gli artisti e poi del vero e proprio momento di dialogo con i collezionisti, con il pubblico che affollano questa fiera. Devo dire che questa collaborazione mi gratifica moltissimo, sono entusiasta anche perché è dimostrato l'entusiasmo anche di tutti gli studenti e ho visto come effettivamente fosse gradita questa esperienza, esperienza che secondo me è estremamente interessante perché permette in pochissimo tempo di poter dare a tutti gli studenti, che non hanno mai magari avuto possibilità di potersi confrontare con il mondo del lavoro, di vedere rapidamente, nei pochi giorni di fiera, una sfaccettatura estremamente ampia di attività in cui loro possono collaborare. Ed è un'occasione per dimostrare come Yulma voglia formare ragazzi che non solo abbiano un'attitudine, una cultura ampia sul sistema delle arti, ma abbiano anche la capacità di misurarsi con il saper fare.